Triste lutto nel mondo del piccolo schermo italiano. Infatti ci ha lasciato un attore e doppiatore amatissimo dal pubblico. Nel corso della sua carriera ha partecipato anche a diverse puntate dei Cesaroni. Scopriamo di chi si tratta. Nelle ultime ore si è spento un amato attore e doppiatore italiano. Stiamo parlando di Giovanni Battezzato, noto per aver prestato la propria voce a Dragon Ball e a Virgin Radio Italia. Ad annunciare la sua morte ci ha pensato proprio la pagina social dell'emittente radiofonica. Infatti nella giornata di ieri i social di Virgin Radio hanno comunicato. Ieri ci ha lasciato Giovanni Battezzato. Giovanni Battezzato si è spento all'età di 71 anni. Nel corso della sua carriera da doppiatore è ricordato soprattutto per aver prestato la sua voce al drago Shenron. In tutte le edizioni di Dragon Ball, rievocato ogni volta da Goku e dai suoi compagni. Durante la sua carriera battezzato si è prodigato anche da attore, apparendo in diversi episodi di casa, di anello e i Cesaroni. Proprio grazie a queste sue apparizioni, da attore è entrato nel cuore del pubblico italiano. Infatti sono numerosi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia di battezzato.